Ciao, sono Mauro FX e faccio parte del Platinum di Airforex e la mia esperienza in Airforex è totalmente positiva. Sono due anni che seguo in maniera costante l'approccio che offre Arduino e Antonio e da quando ho risettato tutto quello che sapevo prima, anzi non sapevo prima, sul trading, ho riscritto una pagina nuova, ho cancellato tutti gli indicatori, tutte le cose che avevo messo in più e mi sono affidato al metodo di Airforex e devo dire che è cambiato tutto quando ho switchato sul time frame settimanale. Lì è cambiato veramente tutto perché hai una visione dall'alto di quello che succede sui mercati. Poi volevo sottolineare, credo che Airforex sia l'unica realtà in Italia che ha implementato l'argomento mindset nel trading. La gestione, il mindset è fondamentale per la gestione delle operazioni, anche della vita tutta, per capire come funzioniamo prima noi stessi e poi tutto quello che ci circonda. Facendo parte del Platinum mi sono reso conto di far parte di una community che alla fine parla lo stesso linguaggio. È un approccio rallentato che richiede pazienza, che non va di fretta e quindi è tutto molto più ragionato e molto più a misura d'uomo. Ci scambiamo dei pensieri, pubblichiamo delle idee e quindi magari diamo valore aggiunto a quello che è la nostra operatività. Se un'operazione la sento mia, la faccio, altrimenti no. Questo è dovuto al fatto che comunque lo scopo della formazione è quella di imparare un approccio, una metodologia che poi ti deve rendere libero, ti deve rendere libero di operare e non essere legato più a nessuno. C'è tutto quello che serve per entrare a far parte di un mondo in maniera professionale e quindi poi sviluppare il proprio vestito su misura e crearsi la propria strada per un trading profittevole.